Ricorre oggi 15 settembre il diciottesimo anniversario della morte di Don Pino Puglisi. Me l'aspettavo. Furono le ultime parole pronunciate dal parroco di Brancaccio davanti alla pistola impugnata da Giuseppe Grigoli. Questo perché nel corso della sua permanenza a Brancaccio, oltre a denunciare il malaffare, aveva anche con la sua azione recuperato giovani del quartiere sottratti al dominio dei clani de Graviano. Era il 15 settembre 1993, il giorno del suo cinquantaseiesimo compleanno, quando venne ucciso sotto casa. Anche Favara vuole ricordare il sacrificio di questo uomo giusto, che ha pagato con la sua vita l'impegno evangelico. Per l'occasione l'area padre Pino Puglisi del Consiglio Pastorale Cittadino, moderato dal dottor Gaetano Scorsone, ha organizzato una serie di iniziative per ricordare questo esempio di legalità. Domenica 18 settembre, dopo la Santa Messa dell'Eventi in Chiesa Madre, un gruppo di ragazzi e ragazze composto da Giuliana Arnone, Marta Gallo, Calogero Daniele Alimblici, Luigi Messana, Sovia Salvaggio e Michele Scorsone, ricorderanno l'amore e l'azione educatrice offerta da Don Pino Puglisi. Ricordare Don Pino Puglisi nella ricorrenza del diciottesimo anniversario del suo sacrificio, dichiara Scorsone, significa far nostro il generoso impegno, raccogliendo la sua preziosa eredità con la determinazione, la passione e l'autorevole umiltà che hanno costantemente segnato il suo virtuoso cammino di vita.